In occasione del Made Expo del 2017 presentiamo in fiera un prodotto innovativo assolutamente straordinario. Suo nome è One, è un nuovo concetto di sistema impermeabilizzante liquido, monocomponente di grande durabilità, che può essere applicato in condizioni estreme, a zero gradi, su superfici bagnate, su superfici umide e che permetterà addirittura la resistenza al calpestio con grado medio. Quindi un prodotto che non esiste oggi sul mercato, siamo i primi a presentarlo, dalle caratteristiche uniche.